Alfabeto dell'Avvento, un po' in modo serio, un po' ovviamente in maniera leggera, spero anche simpatica. L'idea è quella di riflettere su una parola ogni giorno da qui al giorno di Natale. E ovviamente la prima parola è avvento, che significa attesa, ma che significa anche che qualcosa sta per arrivare. Allora l'idea è di chiedersi che cosa attendo, che cosa mi metto nella disposizione di lasciare accadere. E anche accadere forse, visto che inizia con l'A, è una parola interessante. Perché l'attesa in sé è tanto la passività dell'attendere appunto, del lasciare che qualcosa arrivi, ma un'attesa che non è, a mio avviso, non deve essere soltanto passiva, ma è appunto un'apertura con la disposizione a lasciare che qualcosa ci tocchi, ci meravigli, ci stupisca, ci trasformi o ci interroghi. Ma è anche qualcosa che ha in sé una disponibilità più attiva, che forse ha più a che fare anche con la speranza, per quanto ci torneremo nella lettera S, quindi tra un po' di giorni. Cosa attendo? Come mi predispongo all'attesa e come mi attivo? Perché ciò che attendo possa in qualche modo accadere anche grazie a quello che mi metterò disponibile a fare, mi metterò nelle condizioni di preparare. Quindi penso che intanto riflettere su come noi ci mettiamo nelle condizioni di un'attesa, nel vissuto di un avvento di qualche cosa, come ce lo immaginiamo, come lo sogniamo, come lo desideriamo e quindi come appunto ci muoviamo in quella direzione. Mi sembra un buon modo per incominciare questo alfabeto. E poi mi piace l'idea che a ogni giorno, a ogni puntata, stavo per dire anche se mi piace poco come parola, io vi possa citare alcune parole che mi sono venute in mente con l'A, ovviamente ce ne sono moltissime, ma quelle che mi piacciono e quelle che mi sono venute in mente, affinché possiate rifletterci, creare mettendole insieme alcune frasi, giocarci come si faceva da ragazzina e col gioco acrostico. Non so se ve lo ricordate che si metteva la parola scritta in verticale e poi per ogni lettera si metteva una parola e si creava una frase che avesse a che fare proprio con quella parola lì. Giochiamo con le parole perché le parole creano il mondo, aprono la fantasia, concedono possibilità di comprendere come vediamo il mondo e come lo esploriamo e come lasciamo che il mondo ci sorprenda. E allora le parole con l'A che mi sono segnata per oggi sono Armonia, Amore, Altruismo, Amicizia, Anima, Autenticità, Attesa, e l'abbiamo già detto, Attenzione, Aurora, a proposito di qualcosa che avviene, si apre e ci permette il nuovo, Abbraccio e perché no? E questo è importante perché Natale spesso è anche il tempo dove chi ha perso qualcuno a qualche morte ha visitato quella persona o quella famiglia sente particolarmente la assenza e allora come farci anche carico di questa assenza e come poter convivere con questa assenza è un tema importante. E quindi vi chiedo se ci sono delle parole con l'A in questo caso che avete voglia di condividere mettendole nei commenti, mettendole o su YouTube o sui social dove pubblicherò queste puntate in modo che generiamo parole, generiamo frasi, generiamo la volontà per ciascuno di ritornare fertile nel pensiero proprio attraverso le parole che ci regaleremo. Quindi ci vediamo tutti i giorni fino al 24, ovviamente solo se le volete e io giocherò in questo modo in maniera più o meno seria. Buona serata.